Corso Urano V, 80 allievi gridano lo giuro. Conclusa l'esercitazione European Air Refueling Training 2017. Il settantesimo stormo forma 13 piloti della Kuwait Air Force. Ben tornati al consueto appuntamento con l'informazione aeronautica. Mercoledì 12 aprile, gli 80 giovani allievi del Corso Urano V dell'Accademia Aeronautica hanno giurato fedeltà alla Repubblica e dalle sue istituzioni. Alla presenza del Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, gli allievi provenienti da tutte le regioni d'Italia e selezionati tra circa 5.000 candidati hanno vissuto uno dei momenti più toccanti nella vita di un militare. Il momento del giuramento, suggellato come sempre dall'emozionante sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale che ha tenuto con lo sguardo all'insù tutti gli intervenuti. Terminata a Dendoven, nei Paesi Bassi, una grande esercitazione cui hanno partecipato i velivoli del 14esimo stormo. La European Air Refueling Training aveva lo scopo di interoperare e di implementare la cooperazione nelle operazioni multinazionali tra le nazioni del comando trasporto europeo di cui l'Italia fa parte. L'EARTH è un'esercitazione che vede coinvolti assetti europei e assetti statunitensi all'interno di una più grande esercitazione che è la Friesian Flag che si svolge nel mare del nord. L'EARTH è un'esercitazione che ha la caratteristica di far esercitare e di far addestrare gli equipaggi tanker in scenari quanto più possibile vicini alla realtà delle zone di operazione e le zone di combattimento. I partecipanti quest'anno all'edizione 2017 per quanto riguarda gli assetti tanker sono assetti francesi, italiani con il KC 767, i tedeschi con l'Airbus 3 e 10 e gli olandesi che sono la nazione ospitante con il KC 10. Per quanto riguarda gli assetti della Friesian Flag invece abbiamo assetti caccia che provengono da tutte le aeronautiche europee e statunitensi. 13 nuove aquile di pilota di aeroplano a Latina, questa volta protagonisti i cadetti della Kuwait Air Force che hanno concluso con successo i corsi di pilotaggio. Sono 12.000 i brevetti di pilotaggio che la Scuola di Volo Pontina dell'Aeronautica Militare ha rilasciato. Scuola di Volo che da oltre 60 anni seleziona e addestra i piloti militari dell'Aeronautica Militare, delle forze armate, corpi armati dello Stato e quelli di altre nazioni. Per oggi è tutto, Videonews termina qui, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi auguriamo una buona Pasqua. Iscriviti al canale YouTube dell'Aeronautica Militare per condividere i nostri contenuti da dispositivi mobili. Iscriviti al canale YouTube